si apre con le parole che Papa Francesco ha affidato ai partecipanti del meeting internazionale dedicato al tumore dell'utero. Il pontefice ha chiesto ai medici di non considerare mai un ammalato semplicemente un protocollo e ha chiesto anche che venga fatta attenzione affinché l'economia non entri con forza nel mondo della sanità e servizio. La persona ammalata è sempre e molto di più di un protocollo e poi non bisogna permettere che l'economia entri così prepotentemente nel mondo della sanità al punto da penalizzare aspetti essenziali come la relazione con i malati. Sono le parole che Papa Francesco ha pronunciato qualche giorno fa ricevendo in Vaticano i partecipanti al meeting annuale della International Ginecologic Cancer Society. Il soffrono come nel servizio che prestano c'è la consapevolezza dell'importanza di creare legami di solidarietà in una relazione di mutuo aiuto. Per Bergoglio la persona ammalata è sempre molto di più del protocollo in cui si inquadra da un punto di vista clinico e la conferma arriva dal fatto che quando l'ammalato vede riconosciuta la propria singolarità cresce la fiducia verso l'equip medica e verso un orizzonte positivo. Il rischio diffuso è di lasciare la dimensione umana della cura delle persone ammalate alla buona volontà del singolo medico invece di considerarla parte integrante dell'attività di cura offerta dalle strutture sanitarie. Da qui l'esortazione a non permettere che l'economia entri così prepotentemente nel mondo della sanità al punto da penalizzare aspetti essenziali come la relazione con i malati. Il pontefice ammette che la ricerca richiede un forte impegno economico ma si deve trovare un equilibrio tra i diversi fattori con un punto fermo. Il primo posto va comunque riconosciuto alle persone, in questo caso alle donne ammalate, ma anche al personale che opera quotidianamente a stretto contatto con loro perché possa lavorare in condizioni adeguate e anche che possa avere il tempo di riposo per riprendere le forze per poter andare avanti. Il Papa infine ha incoraggiato gli studiosi e i ricercatori a diffondere nel mondo i preziosi risultati degli studi e delle ricerche in favore delle donne di cui si prendono cura.